Il sindaco di Barletta, Mino Cannito, si è dimesso. Lo ha fatto stamattina entrando frettolosamente al comune per consegnarle, protocollarle ed uscire dalla porta sul retro, mentre assessori e suoi consiglieri fedelissimi lo attendevano inutilmente in sala giunta. In pratica ha preferito non incontrarli. Le dimissioni indirizzate al prefetto, al presidente del Consiglio Comunale e al segretario generale sono motivate dallo stallo che si è venuto a creare, auspicando in tal modo, scrive il sindaco, che tutte le forze politiche raggiungano un'intesa nell'interesse del bene della città. Film già visto, Cannito si era infatti già dimesso all'inizio della consigliatura, un paio di mesi dopo la sua elezione, perché appena partiti erano già iniziati i problemi con la sua famelica maggioranza. Le dimissioni all'epoca furono ritirate, erano chiaramente un blef per riportare tutti a più miti consigli, cosa che in qualche modo, per quanto precario, gli riuscì. Questa volta le dimissioni hanno un altro peso, perché è la presa d'atto che una maggioranza, nonostante soccorritori accorsi da ogni dove, persino mennea dal PD, non esiste più. A questo va aggiunto che oggi è stata preparata, su iniziativa dei consiglieri Doronzo IV e Filannino di Coalizione Civica, una mozione di sfiducia che stanno andando a firmare i quattro consiglieri del PD, gli otto di Cantiere Barletta, più bufo ed amato. Se tutti saranno coerenti con la volontà espressa, dovrebbero essere 17, un numero sufficiente per approvarla. Nei giorni scorsi si era scatenata la caccia ai 17 per convincerne almeno uno a non firmare. In delegazione o singolarmente sindaco o suoi pleni potenziari li hanno contattati, ma sembra senza alcun risultato. Immaginiamo che tali tentativi continueranno nei prossimi 20 giorni il periodo concesso al sindaco per eventualmente ritirare le dimissioni e tornare in carica. Gli scenari più probabili a questo punto sembrerebbero tre. Il primo è quello che auspica Cannito, cioè che le sue dimissioni servano a riaprire i giochi e a ricostituire una maggioranza organica per completare la consigliatura su un programma condiviso. Il secondo, che almeno uno dei 17 consiglieri intenzionati a firmare la mozione si faccia convincere a recedere. In tal caso Cannito ritirerebbe le dimissioni provando a tirare avanti, ricercando i numeri di volta in volta in un percorso che presumibilmente avrebbe il fiato corto. La terza è che i 17 reggano. In tal caso la mozione di sfiducia verrebbe approvata, la consigliatura si scioglierebbe e Barletta tornerebbe anticipatamente alle urne nella prossima primavera.